Ecco quanto poco me ne frega, così poco che ti ho sbattuto in faccia il video e poi ripreso con l'altro. Bruta testa di cavolfiore appassito. Episodio 3 Mikoto fa la doccia. In questo episodio viene introdotta una nuova assassina che è la rivale di Mikoto, ma a noi interessa poco. Per ora. C'è un uomo di nome Nunaki, mi ricorda Nonnaki, vabbè. Questo qui fa uno scambio molto poco onesto con Black Label e da loro informazioni sulla droga Giglio Perlato o quel che è. Salta fuori che, proprio perché costa poco, è molto facile che si diffonda velocemente. Ci sono dei mafiosi che si divertono a parlare dei fatti loro. Del cibo, delle partite di golf, delle camicie nuove e di come droga le donne solo per torturarle. Ok, il fatto che qui praticamente tutti i criminali amino picchiare le donne è preoccupante. Molto preoccupante. Cioè, tu, mafioso professionista, tu non vuoi fare i soldi? No, tu vuoi picchiare una donna strafatta. Inchiniamoci davanti al nuovo cattivo, il tipico maschio misogino. Ma attenzione, questo è una versione evoluta, perché non ha la clava e neanche la bottiglia. Questo ha la seringa, ma levatevi dai coglioni. Il Black Label, ovviamente, ammazza tutti i mafiosi presenti. Mikoto ha un altro confronto con l'assassina misteriosa, la quale però scappa. Cannazione! Non la rivedremo mai più! Oh no! Eccola! Cioè, davvero, chi è quel mona che non l'ha riconosciuto subito? Mikoto, a quanto pare. Qui, tutti hanno la soglia d'attenzione di un gatto ubriaco. Colgo l'occasione per chiedere scusa al mio, per avergli fatto bere un po' di spumante. Mikoto e Chikage diventano amiche. Chikage fa vedere la sua cicatrice e racconta a Mikoto la sua triste storia. Le due hanno un momento omosessuale che non critico perché, per me, il lesbismo è una virtù da rodare. Oppure sono a libido sulla quale ci si può mastur... Izzugi pedina in un'aki. Izzugi fa il culo a dei criminali trovati per caso, ma sta per essere ucciso da un tipo con la balestra. Un drogato diventa un satanasso ed uno stupratore che vuole violentare la sua compagna di classe. Chikage e Mikoto parlano di com'è stato bello non fare o fare se... Oh, no. Non ho pensato alla community. Non ho pensato all'età del mio pubblico. Dunque, Chikage e Mikoto parlano di com'è stato bello non fare o fare baciare le altre labbra. Sono un geniaccio. Le ragazze aiutano la povera studentessa dallo stupratore. Questo scappa come una scimmia e si lascia dietro il culo una striscia di testosterone. Mikoto e Chikage leggono il messaggio sul cellulare del tipo e scoprono che i suoi amici sono stati rapiti da degli spacciatori. Sì, altri mafiosi. Episodio 4. Mikoto incontra il mafioso dai capelli bianchi che tiene quella ragazza come una... Cagna. Questo anime è leggermente strano. Tratta le ragazze in un modo un po' troppo... Qual è la parola? Ambiguo. Ecco, la parola è ambiguo. Tratta le ragazze in un modo un po' troppo ambiguo. Comunque, Mikoto e il tipo combattono ma lui la inganna, la frisce alla gamba e la fa giocare ad un gioco con la bomba. Deve riuscire a scappare dall'edificio prima che degli ostaggi con delle bombe addosso la uccidano. Arriva Chikage che salva Mikoto. Le due hanno una piccola discussione perché Chikage uccide per vendetta mentre Mikoto per giustizia. Chikage va ad ammazzare il mafioso e intanto il magazzino prende fuoco. Mikoto deve uscire ed io noto che le scatole in cartone non prendono fuoco. In questo anime il realismo non è un'opzione, è un'assurdità. Arashi lancia la moto a Mikoto che la usa per raggiungere il tetto dove incontra sia il mafioso che Chikage. Mikoto colpisce con la moto il mafioso e lo getta fra le fiamme. Ok, noi lo vediamo cadere, va bene? Va bene. Ci servirà dopo questo pezzo. Chikage e Mikoto hanno un'altra discussione che a noi suona come la scoreggia di una falena. E poi Chikage riceve l'ordine di uccidere Mikoto. Il mafioso è vivo, illeso, intatto, immortale, indistruttibile, invincibile, inspiegabilmente più pulito di prima. Lo abbiamo visto cadere e lui è riuscito per qualche inquadra del destino a volare verso il tetto. E ad aggrapparsi al tetto. E a risalire senza riportare nessun danno. Oppure, oppure, oppure... E' stato salvato dal sacro protettore della misoginia. No, aspetta, però io ne leggo tre. Io leggo tre divinità, non una. Ma come faccio? No, aspetta, però tecnicamente parliamo sempre della stessa cosa. Quindi, il sacro protettore della misoginia, quanto mi risulta, è una divinità a tua scelta che però appartiene ad un culto monoteistico. Ah, questa è complicata, vero? Comunque, non voglio dare troppo fastidio a chi ha rovinato la storia. E quindi mi concentro su chi mi sta rovinando la storia. Lo strozzo con il coltello che si scopre essere il gran maestro di Chikage. Egli spara un dado dritto in testa a Chikage e questa muore. Mikoto sta per morire, ma Arashi con la forza del signore lancia la pistola ad una velocità tale che sfonda la barriera del suono. Mikoto spara lo stronzo e questo muore. Chikage è viva. Come? Come? Ok. Come può essere viva? Posso saperlo? Perché Shoji Sato continua a sputare in faccia madre natura? Beh, dai. Almeno non è stato così brutto come episodio, no? Scopriamo che c'è un'organizzazione segreta come Black Label. Ma quando è che finisce quest'anime?